Ciao ragazzi sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio la recensione del mio nuovo flash da studio, il Godox QS400 Mark II. Come forse saprete io sono un grande appassionato nonché utilizzatore di flash, in particolare flash a slitta su cui tengo anche periodicamente dei workshop che comunque ragazzi stanno per ricominciare in giro per l'Italia seguitemi su Instagram perché a breve ci saranno tutte le date. Comunque diciamo tornando a noi utilizzo molto spesso il flash a slitta per i miei lavori sia a livello di reportage ma anche in studio in particolare con servizi di famiglia e servizi ai bimbi con servizi neonati. Ecco in quel caso finora mi ero sempre affidato a un flash di questo tipo perché svolgendo principalmente questo tipo di servizio a domicilio dei clienti avevo bisogno di una soluzione da potermi portare sempre comodamente in giro nello zaino. Da qualche settimana a questa parte ho però la possibilità di avere uno spazio tutto mio diciamo così uno studio e anche su questo seguiranno aggiornamenti nelle prossime settimane in cui poter svolgere i miei servizi e quindi ho detto già che ci siamo facciamo un aggiornamento prendiamoci un flash dedicato da studio in modo da poterne sfruttare i vantaggi rispetto al piccolo flash a slitta. E dopo essermi guardato un po' in giro su quello che offriva il mercato alla fine mi sono orientato su questo Godox QS400 versione 2. Si tratta di un flash diciamo di fascia media nella gamma Godox che è veramente ampia ragazzi ci sono tantissimi modelli a volte si fa anche fatica a capire quale sia quello più adatto alle proprie esigenze perché cambiano veramente di pochissime virgole uno dall'altro. Comunque alla fine mi sono orientato su questo modello si tratta di un modello da 400 watt secondo con attacco Bowens quindi compatibile con praticamente quasi tutti i modificatori esistenti in commercio. Partiamo subito con quello che c'è all'interno della confezione che è bene o male quello che vedete qua a fianco a me. Abbiamo l'unità flash che è questa qua principale costruita in metallo direi molto fatta molto bene con questa comodissima maniglia per poterlo eventualmente girare spostare e portare in giro. Abbiamo la parabola che serve appunto a concentrare la luce quando non vogliamo utilizzare altri modificatori ad esempio perché ci serve per i nostri scatti di avere una luce un po' dura e poi c'è la lampada di modellazione e quest'altro vetro che vedete qua all'interno che serve a proteggere la lampada effettiva del flash quando si montano e smontano gli accessori, i modificatori. Altre cose all'interno della confezione non ce ne sono se non questo aggeggio qua che serve a proteggere la lampada del flash quando lo si porta in giro, quando lo si va a riporre nella sua scatola e questo cavo che serve a comandare direttamente il flash appunto via cavo se la vostra fotocamera all'attacco pc sync oppure se volete utilizzare questo flash con un sistema trigger di un'altra marca che ha questo tipo di attacco. Allora per quanto riguarda la costruzione come vi ho detto è fatto molto bene, è molto solido e andando a guardare la parte posteriore abbiamo nella parte superiore il sensore a infrarossi che serve alle funzioni wireless ottiche che vedremo tra poco, abbiamo un comodo display con cui andare a visualizzare tutti i vari parametri, una rotella con cui si va a regolare la potenza in incrementi di decimo di stop da massima potenza fino alla minima che è un trentaduesimo quindi abbiamo sei stop di escursione totale per quanto riguarda la potenza. Nei comandi qua sotto abbiamo il primo pulsante che ci consente di selezionare il gruppo e il canale di trasmissione radio perché questo modello in versione Mark 2 a differenza della Mark 1 la cosa principale che hanno di diverso è l'avere integrato il trigger radio del sistema Godox che è compatibile con tutti gli altri flash Godox quindi per me che avevo già il loro flash a slitta anche lui con il ricevitore radio integrato non ho dovuto comprare altri trigger perché con il commander questo qua che avevo già è perfettamente compatibile. Andando avanti con i pulsanti abbiamo il pulsante dello slave ottico con modalità S1 che è quella che fa fare il lampo a questo flash quando vede il lampo di un secondo flash, la modalità S2 che è identica alla prima ma va a cancellare il prelampo del TTL, terzo pulsante che consente di attivare e disattivare l'avviso sonoro che vi dice quando il flash è carico e pronto per scattare abbiamo il pulsante per attivare la lampada di modellazione che ha due settaggi o meglio tre. La prima è lampada di modellazione spenta, la seconda è lampada di modellazione in modalità proporzionale alla potenza quindi a seconda di come vado ad aumentare la potenza del flash vedete qua alle mie spalle la lampada di modellazione si regola di conseguenza e infine la terza modalità che è lampada di modellazione sempre accesa al 100% della sua potenza. Infine l'ultimo pulsante è quello per fare il test quindi premendo questo pulsante vi farà un lampo. Infine qua sotto abbiamo ulteriori due porte una che è una porta usb per i trigger wireless della vecchia versione del sistema Godox e la porta sync in cui andare a inserire il cavetto che vi ho mostrato prima per comandare questo flash via cavo. Per quanto riguarda la potenza devo dire che sono rimasto molto soddisfatto di questa unità nonostante sia da soli 400 watt. Questo numero magari non vi dirà nulla e quindi sono andato a fare un piccolo test facendomi due foto di prova uno con il mio flash a slitta alla massima potenza all'interno di un octabox posizionato più o meno come ho la luce chiave in questo video quindi a circa una distanza di braccio più o meno un metro dal mio volto e in quel caso flash a slitta alla massima potenza riuscivo a tenere un diaframma di f9 iso 100 un 250esimo di secondo. Facendo la stessa cosa con questo flash da studio alla massima potenza stesse condizioni quindi stesso modificatore stessa distanza ho dovuto chiudere fino a f22 e in realtà c'era bisogno di chiudere in teoria ancora un pochino di più ma l'obiettivo che stavo utilizzando non mi consentiva questa di chiudere ulteriormente il diaframma ecco quindi in totale la differenza in termini di stop tra un flash a slitta e questo flash a studio è di circa tre stop e a che cosa può servire tutta questa potenza? Allora per quello che serve a me se parliamo di servizi ai neonati che è la cosa principale in cui vado a utilizzare questo flash in realtà non mi serve tutta la potenza anzi in genere sto al livello più basso un trentaduesimo e un sedicesimo ma in generale sono a livelli molto molto bassi perché comunque la luce che mi serve per quel tipo di servizio è bassa. La potenza in più risulta molto comoda quando si vanno a fare delle foto di gruppo foto ad esempio con servizi di famiglia con più persone con bambini insomma che si vanno a mettere su piani diversi in cui ho bisogno di andare a chiudere il diaframma per avere più profondità di campo e allo stesso tempo voglio tenere basso il livello di iso per avere la foto più pulita possibile. Ecco che con un flash di questo tipo posso andare a dar su molto di più alla potenza rispetto a quello che potrei fare con un semplice flash a slitta e poter chiudere appunto il diaframma al valore che mi serve senza particolari problemi. Un altro vantaggio di un flash da studio di questo tipo rispetto a un flash a slitta è nei tempi di ricarica che sono molto molto veloci ad esempio ha un sedicesimo di potenza andiamolo a usare con il suo trasmettitore radio vedete che tac tac spero che si veda dal video anzi vi attivo l'avviso sonoro come potete vedere è praticamente istantaneo e alla massima potenza oltre a fare un distinto pop che è molto bello almeno a me piace fa sentire questo rumore del condensatore che si scarica del flash che va alla massima potenza comunque a parte questa nota di colore il tempo di ricarica come potete sentire è molto veloce dopo aver fatto il lampo in un paio di secondi saremo pronti per scattare con una potenza che come detto è 3 stop maggiore rispetto a quella di un flash a slitta. Ecco per concludere la panoramica come avete visto io però finora ho utilizzato il mio trigger della Godox per comandare questo flash ed è questo anche il motivo per cui mi sono orientato su questo modello di questa marca rispetto ad altre versioni magari di marche concorrenti presenti sul mercato. Con questo trigger che avevo già posso comandare contemporaneamente sia il flash a slitta sia il flash da studio quindi se ad esempio voglio utilizzare il mio flash nuovo da studio come luce principale e poi mettere il flash a slitta magari solo come piccola luce di riempimento a bassa potenza luce di separazione non lo so cose di questo tipo ecco con un solo trigger posso comandare entrambi sempre da questo trigger che vado a montare sulla fotocamera si può ovviamente andare a regolare la potenza questo è ovvio e ho anche la possibilità di accendere e spegnere la luce di modellazione direttamente da qui quindi veramente molto molto comodo e questo secondo me è il grosso vantaggio del sistema di Godox che con un solo trigger un solo sistema radio vi consente di comandare tutti i flash della sua famiglia. Lati negativi di questo flash allora finora non è che ne abbia trovati anzi forse ce n'è uno solo che è proprio la potenza come vi ho detto questo flash ha una potenza che si può regolare dalla massima potenza fino a un trentaduesimo e questo valore di un trentaduesimo vi assicuro che per alcune cose potrebbe essere ancora troppo alto quindi non poter scendere sotto questo valore è in alcune situazioni un po' negativo diciamo che in quei casi in quei rari casi in cui avevo bisogno di utilizzare un flash in una situazione tra virgolette da studio ma con una potenza ancora più bassa ecco che in quel caso mi toccava ricorrere al mio caro vecchio flash a slitta perché questo qua anche al minimo era comunque troppo potente però a parte questo altre grosse cose non ne ho notate sono ormai diverse settimane che ho questo flash l'ho utilizzato per diversi servizi si è sempre comportato in maniera egregia arrivando ai costi di questa unità io l'ho comprato su ebay da un rivenditore italiano e costa 230 euro spedizione inclusa quindi una cifra secondo me è accettabile su amazon ho visto che si trova intorno ai 210 euro venduto in questo caso da un negozio tedesco non esiste almeno al momento venduto e spedito da amazon comunque in ogni caso vi lascerò il link qua sotto in descrizione arrivando alle conclusioni allora come vi ho detto sono rimasto piacevolmente sorpreso e contento di questo flash da studio che lo trovo veramente fatto bene e con questo oggetto si riescono a ottenere delle ottime fotografie è costruito bene ha un buon range di potenza di potenza massima che vi consente a seconda di quello che dovete fare di poter chiudere molto il diaframma senza andare a stressare troppo l'unità o comunque ottenere degli scatti che non potreste realizzare con un semplice flash di questo tipo ha un costo come detto accettabile insomma 230 euro rispetto magari a modelli di marche più note la più famosa diciamo così è profoto che ha dei flash che partono anche da 1000 e 1200 euro a salire ecco con questa unità si riuscirà a ottenere praticamente lo stesso risultato con un costo molto inferiore e lo trovo perfettamente adatto sia a un uso professionale semiprofessionale o anche da hobbysti perché con queste cifre se volete iniziarvi a divertire con la fotografia flash in studio diciamo che non è un investimento così esagerato come per altri sistemi oltre come abbiamo detto al grosso vantaggio di poterlo comandare con i trigger godox che appunto sono compatibili tra loro tra tutti i vari flash del loro sistema ok ragazzi dai con questo è tutto per il video di oggi che spero vi sia stato utile per lo meno per vedere un tipo di apparecchio diverso da quello che vi porto di solito qua sul canale se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate fatemi sapere cosa ne pensate come al solito in un commento qua sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao